Ciao, sono Patrizio, vi saluto e vi invito ad iscrivervi al mio canale se i miei contenuti vi piacciono. Prima di iniziare questo tutorial desidero ringraziare Dan Verhoeven, un fotografo e cinoperatore subacqueo che mi ha concesso l'uso di queste magnifiche immagini che corrono nelle mie spalle. Iniziamo a rispondere alle domande che mi sono state poste. Carlo mi chiede, immergersi con l'Ara, autorespiratore ad aria, è pericoloso? Caro Carlo, come tutte le attività umane un minimo di rischio c'è sempre, però ci sono due parole magiche per risolvere questo problema, conoscenza e prudenza. La conoscenza si può acquisire, anzi si deve acquisire, facendo un corso specializzato. Ce ne sono moltissime in tutte le città italiane e in tutto il mondo e con istruttori professionali veramente molto bravi. Io ne conosco uno di cui mi fido perfettamente, vi lascerò un link nei commenti per suggerirvi una persona per chi abbia nei ritorni di Roma. Gian Carlo invece mi fa una domanda molto più inerente al tutorial che stiamo facendo e cioè mi chiede, ma con gli occhialini da nuoto si può andare in apnea o ci si può immergere? Gian Carlo assolutamente no, per un motivo molto semplice, gli occhialini da nuoto contengono dell'aria, anche se hanno un volume veramente molto ridotto, comunque contengono dell'aria. Come abbiamo già spiegato, quest'aria durante la discesa si comprime e diminuisce il suo volume. Diminuendo il suo volume crea un effetto ventosa che danneggia seriamente tutte le vene del bulbo oculare, quindi non ci si può immergere con nessuna maschera o occhiali che non siano dotati di un naso di gomma. Per quale motivo un naso di gomma? Perché il naso di gomma permette di soffiare all'interno della maschera dell'aria e quindi di compensare questa maschera aumentando progressivamente il volume che nell'ambito della discesa piano piano va diminuendo. Io vi ringrazio e vi invito ancora ad iscrivervi al mio canale se questi contenuti vi interessano e continuare a seguirmi. Grazie, ciao da Patrizio, ciao! Grazie a tutti!